L'ultimo intervento della senatrice Maiurinimo. Non posso partecipare ai concorsi, votare, andare in Erasmus. Anche se io a scuola e all'università ci sono andato come voi. Mi vengono negati diritti elementari, sono considerato un cittadino di serie B e sono costretto ogni volta a rinnovare il permesso di soggiorno. Queste, Presidente, sono le parole cariche di dolore che Omar Neffati ha continuato a ripetere fino all'ultimo giorno, fino a quando lo scorso 12 gennaio non ha più retto e si è suicidato con una corda al collo. Omar Neffati, 27enne di origine tunisina, si è tolto la vita a Sutri. Viveva lì in Italia con la sua famiglia da quando aveva sei mesi. Un italiano a tutti gli effetti. Nel suo ultimo post di Instagram si legge Omar Neffati, 27 come Giannis, Jimmy e Kurt, un po' italiano, un po' tunisino, portavoce di italiani senza cittadinanza. Sì, perché Omar era diventato il simbolo della lotta per il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, era il portavoce del movimento italiani senza cittadinanza, ma militava anche in tante altre associazioni impegnate per i diritti, dall'Arci al Tavolo Asilo e Immigrazione, all'Unipride, alla rete Nobba Baglio. Le sue parole, la sua lotta, l'ingiustizia che ha dovuto subire e sotto la cui pressione ha infine compiuto un gesto estremo che ha gettato nella prostrazione la sua famiglia e la vasta rete di amici e persone che gli volevano bene dovrebbero farci riflettere tutti e farci vergognare. Da tempo ripetiamo che chi studia in Italia, i ragazzi e le ragazze di origine straniera che siedono ai banchi con i nostri figli, frequentano le nostre case, vanno in gita insieme, fanno i compiti insieme, sono a tutti gli effetti italiani e la legge dovrebbe riconoscerli come tali. Questa sordità della politica di fronte ad un'istanza tanto ragionevole diventa crudeltà ideologica quando si prolunga così a lungo. Si parla tanto di politiche di integrazione ma non siamo in grado di applicarle nemmeno per coloro che integrati già lo sono, perché conoscono la nostra cultura, la vivono, la incarnano a tutti gli effetti e tutti i giorni. La morte di Omar Neffati, ragazzo giovane e pieno di belle promesse, amato dalla sua comunità, è una tragedia e il simbolo di un fallimento cui tutti noi abbiamo il dovere di porre rimedio immediatamente. Voglio mandare un abbraccio sincero e di addolorata vicinanza alla famiglia, alla comunità di Sutri ancora sotto shock per questa tragedia che si sta attivando per sostenere la famiglia di Omar e per ottenere per lui la cittadinanza onoraria della città in cui è vissuto. Mi unisco quindi all'appello al sindaco Vittorio Sgarbi e all'intera amministrazione perché non rimangano sordi a questa richiesta. Il rinnovo a tutti i gruppi di maggioranza e opposizione un appello. Come Movimento 5 Stelle sosteniamo l'introduzione dello Iuscole, parliamone, apriamo un tavolo trasversale, deponiamo posizioni ideologiche e saniamo tutte e tutti insieme questa ingiustizia che ricade solo sulle spalle dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Grazie.